ragazzacci buongiorno ben ritrovati in questo nuovo video sul canale oggi per forza di cose permettetemelo ma bisogna partire dalla leggenda bisogna parlare di Gianluigi Buffon perché ormai è quasi ufficiale ufficioso ma sappiamo che andrà così Gigi Buffon ha dato l'addio al calcio giocato in un caldissimo primo agosto tardo pomeriggio la notizia e non può fare altro che scendere una lacrimuccia Buffon eccolo qui eccolo qui no qui è con noi in ogni video ogni contenuto che viene caricato su questo canale quando siamo a casa ogni diretta live su twitch abbiamo Gigi e Ale sono un po' i due padrini della mia juventinità e del mio avone per il calcio da quel berlino 2006 a quell'inferno della serie b fino al primo scudetto riconquistato insieme passando per le delusioni di due settimi posti fino ad arrivare ovviamente alla leggenda che ha portato Buffon a vincere 8 dei 9 scudetti mi fa ridere perché poi sulla gazzetta hanno fatto questa foto di Buffon con la maglia del parma con tutte le foto sul retro in cui festeggia con il parma festeggia con il psg e della juventus c'è una foto o forse due di cui ovviamente quella in cui passa di fianco alla champions sconfitto e poi di fianco c'è il fotomontaggio di una coppa dello scudetto che recita juventus campione d'italia 2018 2019 esattamente l'unico scudetto dei nove che già Luigi Buffon non ha vinto perché stava al psg meraviglioso un insieme di cose meravigliose datevelo vedere sulla pagina instagram di gazzetta perché davvero è meraviglioso sembra che la juventus ci abbia fatto una stagione forse due guardando l'immagine e poi c'è quella coppa scudetto della juventus che lui non ha mai vinto quindi veramente un insieme di cose meravigliose ma lasciando da parte questa piccola polemica però come fai a non associare il nome di buffon alla juventus mi sembra un mistero però sarò io malizioso gigi grazie gigi veramente grazie grazie perché prima persona l'uomo poi il calciatore l'eroe la leggenda io ho avuto la fortuna di incontrare buffon ben tre volte e tutte e tre le volte sono rimasto impressionato dalla voglia che aveva questo ragazzo perché non ho altri modi di definirlo che stava bene con la sua gente stava bene con il suo con i suoi tifosi e voleva stare in mezzo a queste persone di una disponibilità rara più che unica quindi grazie davvero non so quante volte l'ho già detto ma è stata un'avventura meravigliosa manca una cosa purtroppo e lo sappiamo bene e se e quando torneremo a vincerla sono sicuro che il primo pensiero andrà proprio a gigi a pavel che non l'ha mai vinta ma anche ad alessandro che magari l'ha vinta e comunque anche treseghieca moranesi chiellini tutti quelli che hanno contribuito a far ripartire la juventus dall'inferno della serie b fino a ritrasformarla nella squadra che ha dominato in italia per quasi una decade quindi non posso fare altro che che essere grato a queste persone e soprattutto a gigi buffon perché è il suo giorno ed è giusto parlare di lui lasciamo da parte questa cosa qui ma non potevo fare altro che parlarne e iniziamo ad entrare all'interno invece dell'argomento più caldo in casa juventus che ovviamente riguarda sempre vlaovic ma non solo i tanti piccoli discorsi andranno a intrecciarsi perché perché intanto stanotte all'1.30 c'è juventus real madrid quindi ci vediamo all'1.30 su twitch un orario già più umano rispetto alle 4.30 della sfida contro il milan abbiamo tre ore di vantaggio rispetto all'ultima partita però stanotte si gioca si gioca questa notte all'1.30 ultima partita della tournée americana prima del ritorno in italia dove poi tra una settimana ci sarà la sfida a porta aperte all'Allianz Stadium un allenamento a porta aperte aperto ai tifosi. Vlaovic è in gruppo potrebbe giocare anche uno spessone di partita proprio questa sera anche Pogba l'abbiamo visto corricchiare con i ragazzi però ovviamente è fuori e Allegri ha detto che dal 7 agosto inizieranno a capire se potrà alzare i ritmi ma rimane comunque molto complicato averlo a disposizione per l'Udinese cose che sapevamo già ne eravamo già al corrente e quindi vediamo un attimo che cosa succede però stavo ragionando un attimino ed effettivamente per la partita di questa sera a centrocampo ci sono delle defezioni importanti perché hai Pogba fuori, Fagioli fuori, Rovella fuori, Rabbeau fuori esattamente come con il Milan quindi poi l'altro giorno abbiamo visto Locatelli, Meccenni e Miretti come centrocampo titolare e poi sono entrati non Geboende, chi altro era entrato, Nicolussi Caviglia e Eiling Junior come mezzala di sinistra è perché in questo momento la Juventus ha alcune difficoltà quindi io stasera possiamo immaginarci una Juventus con un centrocampista in meno e un attaccante in più quindi 3-4-2-1, io credo di no, credo che si insisterà sul 3-5-2 non tanto per gli uomini che abbiamo a disposizione adesso perché chiamerebbero davvero un centrocampo 2 quanto più perché è l'idea da cui vuole ripartire la Juventus di Massimiliano Allegri per questa stagione dare continuità a quella che è stata la stagione appena trascorsa quindi se per il momento comunque non abbiamo a disposizione così tanti centrocampisti Fagioli e Rabiot dovrebbero essere recuperati in tempi brevi per Rovella ci sono una ventina di giorni di stop per una lesione muscolare e Pogba è un grosso punto interrogativo in attesa di vedere come si svilupperà il fronte che si quindi il centrocampo oggi diventa il punto debole della Juventus se da una parte Vlaovic sta rientrando dalla pubalgia e sarà a disposizione a centrocampo invece aveva ancora tanti buchi a livello di tasselli nel puzzle da completare Allegri ha parlato di Lukaku, c'è una trasposizione che ho letto sulla gazzetta e dice Lukaku io sono contento della rosa che ho a disposizione però di fronte a offerte rinunciabili per esigenze economiche e finanziarie verranno valutate e io mi adeguerò come ho sempre fatto mi adeguerò come sempre fatto se ci sono offerte rinunciabili economico Allegri qua fa un po' capire anche qual è la situazione ieri vi dicevo io che ho sempre pensato no Lukaku lo vuole Allegri perché lo ritiene più adatto alla sua idea di calcio addirittura ieri è iniziata a circolare una voce che è stata anche riportata ma sono cose che a me fanno sinceramente ridere Allegri ha detto a Giuntoli se mi dai Lukaku ti porto lo scudetto e allora Giuntoli gli prende Lukaku non credo proprio che ci sia stata questa conversazione a me fa proprio ridere e pensare e Giuntoli dice ah sì ma allora andiamo a prendere Lukaku di corsa dai corriamo andiamo a prenderlo mi sembra una roba assurde anzi oggi veramente mi sembra palese palesissimo che la volontà di cedere Vlaovic derive dall'Avi Ventus cioè mi sembra proprio palese che l'Avi Ventus abbia questa necessità di vendere e quindi non è tanto un discorso tecnico-tattico Lukaku è semplicemente un'occasione che accade che si verifica in questo momento Vlaovic è una necessità un'accessione necessaria mi dispiace tanto anche perché a questo punto mi viene a dire se vendiamo Vlaovic svalutandolo completamente io non voglio più fare nessun tipo di investimento su un singolo giocatore giovane che vada dai 60 milioni in su perché tanto non c'è la possibilità di valorizzarli perché se alla minima difficoltà se al minimo momento se è il momento di vendi basta delitto 80 milioni no via poi lo diamo via quanto l'abbiamo andato via 60 una roba del genere 65 Vlaovic 80 milioni adesso cosa lo diamo via a 60 perché alla fine oggi si legge che la Juventus vorrebbe almeno 40 milioni di euro di conguaglio economico oltre a Lukaku con il Chelsea che invece addirittura sarebbe disposto a darne meno della metà si parla di 10-15 milioni di euro ma anche se fossero 20 immaginatevi immaginatevi questo posto o immaginatevi l'Allianz Stadium tra la settimana con l'allenamento a porta aperte o immaginatevi la prima partita di campionato se fanno se concludono lo scambio Vlaovic al Chelsea per Lukaku e 10-15 o 20 milioni di euro provate a immaginarvi che cosa succede io ribadisco ieri vi dicevo dai 50 in su inizia a essere una cifra che non puoi non prendere in considerazione se hai bisogno di monetizzare e capitalizzare ma se questo bisogno si traduce in 10-15-20 milioni non venitemi a dire che lo si fa perché è un affare economico che conviene che è una cosa che non esiste poi la Juventus sicuramente dirà sì però vendendo Vlaovic a X e poi prendendo Lukaku alla fine mi rimangano quei milioni di disavanzi e torniamo al discorso ieri non è Romelu Lukaku l'unico attaccante sulla faccia della terra disponibile e se la Juventus non si è preparata nessuna alternativa a Lukaku e non esiste nella testa la Juventus nessuna alternativa a Lukaku credibile o di livello abbiamo un problema nella fase di progettazione di un calciomercato con la volontà di cedere un calciatore abbiamo un grosso problema quindi vediamo aspettiamo già stasera speriamo di poter vedere Vlaovic in gol perché l'ultimo gol di Vlaovic se ricordo bene è quello all'Atalanta in quella brutta cornice di di burassisti proprio a Vlaovic e a questo punto apro anche una parentesi perché Vlaovic e Lukaku sono diventati un po' i simboli della lotta al razzismo negli ultimi mesi di Serie A e adesso invece sono i simboli della lotta economica che dovrà sostenere la Juventus oggi un ragazzo tifoso interista mi ha risposto nei commenti mi ha detto la tifosa dell'Inter tutta questa situazione adesso mi fa ridere in effetti si è un po' invertito il trend quando due tre settimane fa parlavamo di dell'Inter beffata da questo comportamento di Lukaku da questo inserimento della Juventus e l'Interista era arrabbiato e quindi poi per dispetto Marotta si va a prendere il quadrato per cercare di sistemare ora loro si stanno portando avanti stanno trattando Scamacca è già arrivato Turam poi ovviamente Turam e Scamacca contro Lukaku e Dzeko ad oggi sono categorie differenti però Turam e Scamacca avranno magari margine per crescere poi non credo che arriveranno mai a quei livelli lì almeno Scamacca non mi ha mai raccontato niente su Turam non mi esprimo perché semplicemente non l'ho mai visto giocare però oggi probabilmente il tifoso interista ride di più di un mese fa due settimane fa tre settimane fa e noi oggi invece ridiamo un po' di meno perché per arrivare a Lukaku dobbiamo veramente sacrificare quello che è stato il nostro investimento principe ma un anno e mezzo fa 18 mesi fa e mi fa anche un po' ridere perché proprio 18 mesi fa si diceva la Juventus serve un attaccante o Vlaovic o Scamacca alla fine gira che ti rigira in Italia i nomi sono e rimangono sempre quelli lì